Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 19 febbraio del 2020. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali che ovviamente hanno tutti a che vedere, ai noi, sempre con questa tenuta del governo. È una barzelletta questa qua, perché un giorno cade, un giorno non cade, poi c'è sempre questo problema parlamentare per cui quelli dell'Italia Viva non votano insieme alla maggioranza, ogni rompono le balle. Insomma, è il modo di fare, diciamo, guerriglia politica non solo di Renzi, ma di quelli che vogliono fare l'opposizione dall'interno del governo. Conte ha la sfida con Renzi, titola giustamente il Corriere della Sera, perché hanno litigato anche ieri sulla legge che riguarda le intercettazioni. La cosa singolare di questi giornali, dei nostri straordinari giornali, ma anche di noi giornalisti, non tolgo nessuno da questa storia, è che il problema è il dito e mai la luna. La legge sulle intercettazioni è una roba mostruosa, la stanno facendo, ma noi in realtà che cosa vediamo? Vediamo il fatto che si litighi sulla legge mostruosa. Sulla prescrizione è una legge mostruosa, pochi italiani la conoscono nel dettaglio, ma molti sanno che stanno litigando Renzi e compagnia cantante su questa legge mostruosa. Nel frattempo Renzi si porta a casa due parlamentari in più, Tommaso Cerno, che oggi in un'intervistina a Repubblica ne ha cambiate di tutti i colori le idee, ma su una si può dire che Tommaso è rimasto fisso, e cioè il fatto di essere un garantista e quindi di non accettare la legge sulla prescrizione, così come hanno fatto i Bonafede e compagnia cantante. Mi chiedo come possa aver accettato tutto il resto, ma questo è un altro discorso, e dall'altra parte arriva una di Leo. Quindi è straordinaria questa idea del movimento di Renzi, che riesce a trarre da sinistra a destra, si fa per dire. I due Matteo sono molto simili, dice Antonio Polito oggi sul giornale. Scusatevi, questa cosa non si dovrebbe fare, ma siamo in diretta, quindi ce le freghiamo altamente. I due Matteo sono di fatti, secondo Polito, sentite un po' voi che cosa sono Polito, condividono una visione leninista, liderista, giacobbina, rivoluzionaria della lotta politica. Forse ha scomodato un po' troppo Lenine, secondo me, Polito per descrivere sia Renzi sia Salvini, ma il pezzo è interessante. Molto più interessante è il titolo, se posso permettere, di Repubblica, anche se non mi fido più dei titoli di Repubblica. A parte il favoloso cancellare Salvini, e da lì inizia la deriva di Repubblica, per cui puoi leggere in prima pagina tutto quello che scriviamo anche noi del giornale, cioè diventa un giornale, diciamo, da titolo di prima pagina, che è la grande elezione del vetrinista Feltri. Fai un grande titolo in prima pagina che attiri l'attenzione ai tuoi lettori. L'abbiamo fatto al giornale, lo fa il libero, lo fa il tempo, ma Repubblica, in realtà, da cancellare Salvini in poi, è entrato in questa grande famiglia dei titoli di prima pagina che vogliono Epatele e Bourgeois. In questo senso, oggi il titolo è Operazione Salvaconte. Straordinario. Sembra un film di Fleming. Il problema è che non c'è James Bond, ma c'è James Romani, il presidente dei gruppo parlamentare di Forza Italia, che quando Berlusconi lo fa fuori si arrabbia come una bestia, ministro dello sviluppo economico di Berlusconi, che quando Berlusconi perde il potere ovviamente ci rimane male. Insomma, l'uomo che ha fatto tutto con Berlusconi, un po' come Bondi, un po' come tanti altri berlusconiani, e poi quando Berlusconi gli ritrae la concessione del suo status, beh, insomma, dicono diventiamo responsabili. Anzi, no. Goffredo De Marchis, che è uno dei retroscenista che io seguo con attenzione perché è molto interessante come scrive e cosa scrive, oggi non li chiama più responsabili perché la nuova moda sarà gli interlocutori. Quindi, giuro, gli interlocutori ogni stagione ha le sue cazzate. Quella di quest'anno sono gli interlocutori del governo presieduti niente popo di meno che dall'ex ministro romani. Ci sarebbero anche altri trasfughi, eccetera. Bisogna avere un marchietto per fare quest'operazione, il marchietto è quello dell'Udc, e quindi questi, secondo le indiscrizioni di Repubblica che tirano via Mallegni, perché ha detto che è quella da tutti se si sta con loro. Beh, oggi non sarebbe più un responsabile ma sarebbe un interlocutore, ma questi interlocutori sono quelli che andrebbero a sostituire i Renziani, ma andremo a vedere. Poi, sempre sul fronte del centrodestra, io devo dire, io ho Le Santelli che conosco e ho conosciuto e che stimo, ma insomma, ieri ha annunciato in pompa magna di fare ministro dell'ambiente, scusatemi, assessore dell'ambiente, per fortuna, non ministro, e il capitano ultimo, quello incappucciato, io la trovo una minchiata mostruosa, perché non riesco a capire perché il capitano ultimo che proprio in questa stanza con i suoi uomini del Noe mi perquisì per, dopo aver lavorato anni con Woodcock, se rappresenta il capitano ultimo esattamente come possiamo dire il senso del centrodestra che io ho Le Santelli, moderata, berlusconiana, dovrebbe rappresentare. Lasciaglielo a Meroni, lasciaglielo a loro, ma proprio voi dovete prendere quelli che avevate l'idea, questo ha lavorato con Woodcock ed era il braccio suo di, no, veramente armato di Woodcock e poi non fosse altro che c'è una questione personale sulle perquisizioni personali fatti dal Noe che trattano tutti come dei criminali, trattano tutti come se fossero dei criminali talvolta ci sono anche dei giornalisti, beh, insomma, ieri che cosa dice il capitano ultimo? Ho in mente di praticare il senso dell'autodeterminazione della comunità secondo il principio di sussidiarietà della Costituzione. Uno così lo metti in galera! Uno che scrive e dice una stronzata incomprensibile come questa lo metti in galera. Amare Saturina, ho capito, lo metti in galera, lo metti in galera. Ve lo ripeto, ho in mente di praticare il senso dell'autodeterminazione della comunità secondo il principio di sussidiarietà della Costituzione, lo metti in galera e gli dici studia, studia, parla italiano, cazzo, di una roba normale, ma che vuol dire? Ma voi ve lo immaginate un assessore che parla così? Ma perché non parlate come noi esseri umani? Capitano ultimo, ma che sei laureato alla Sorbona? Niente, da domani mi perquisiranno come hanno già fatto i delicati metodi del NOE di Napoli e di Woodcock. A questo punto io me li aspetto, ho sbagliato, diciamo sappiate cari commensali che me la sono cercata su questa roba qui, brava Santelli comunque. Decreti di sicurezza, straordinario, l'idea del governo adesso è quella di dare uno scudo penale a coloro, ai ministri che si occupano di sicurezza, nel senso che tutta la responsabilità deve andare in capo al Presidente del Consiglio, quindi non può avvenire più un caso Salvini cioè di un Presidente del Consiglio che viene indagato, un ministro che viene indagato perché la responsabilità oggettiva diventa il Presidente del Consiglio, quindi una sorta di scudo alla Lamorgese a tutti come loro. Questo scrive il messaggero, non so se è vero ma è straordinario se così fosse. Immigration Revolution dice il Daily Mail perché quell'altro non ci pensa su un secondo, non c'ha diciamo i tipini fini della politica italiana, Boris Johnson, mitico, mitico Boris Johnson e che cosa decide? Che quelli che non hanno un'offerta di lavoro, non un lavoro dignitosa cioè sopra 25.000 sterline non possono arrivare in Gran Bretagna, devono parlare l'inglese e non avranno nessun beneficio del welfare state inglese per i primi 5 anni. Io non so se sia una novità in Inghilterra questa restrizione ma mi sembra semplicemente una roba di buonsenso di una comunità che cerca di tutelarsi e cerca anche di allargarsi gli immigrati che diventano in paesi come l'Inghilterra, la Silicon Valley, la California, alcune zone dell'Italia fondamentali per lavorare ma alle regole di chi li vuole assumere non a cazzo come avviene in Italia. La Segre è il bacio del giovane studente di destra sarebbe una cosa di una banalità assurda viene invitata la Segre che è una donna straordinaria carina io l'ho conosciuta recentemente una donna che a cui danno un ruolo che secondo me lei non vorrebbe neanche se non il ruolo di testimone di una grande tragedia che lei ha tatuata sul braccio insomma viene invitata la Sapienza il giovane che doveva accoglierla è un giovane di destra ha questo problema di non essere di sinistra di merda dei centri sociali chiaro ed è di destra e fanno una grande polemica non dovrebbe accoglierla la Segre che cosa fa? come racconta bene Francesco Del Vigo quando la vede quando alla fine si salutano lei come è la Segre gli dà un bacio sulla guancia in senso di affetto reciproco una donna libera o come dice oggi Del Vigo a dispetto di strada parliamo di una donna maiuscola e di un uomo minuscolo perché ce l'hai e mette insieme Del Vigo l'uno e l'altro perché ieri è riuscito a dire questo genio questo straordinario uomo che piace alla sinistra questo ultimo dei nostri pensieri cioè strada che Meloni e Salvini un po' come i gerarchi nazisti si può discutere chi di loro è il miglior rappresentante della destra come i gerarchi nazisti questo è il dialogo che si può avere con questi qua cioè con questi qua questi uomini di sinistra nasce Banca Intesa insieme a Ubi tutti i giornali fanno decine di pagine su questa fusione l'unica cosa che vi voglio dire è per sottrazione io il primo giornale che ho preso per leggermi questa roba qui è stato il sole 24 ore una delusione totale lo dico toc toc e i miei amici del sole 24 ore ragazzi voi eravate la bibbia di fisco e finanza ma se io devo leggermi sul sole 24 ore meno di quello che leggo Sipar Valicet sul giornale e sul Corriere della Sera e sul Repubblica beh allora voglio dire o Rosario Di Mito sul messaggero è allora insomma un po' ha perso il suo senso Campari decide di andare in Olanda fermi tutti ripaga le tasse in Italia rimane residente fiscale in Italia ma va in Olanda e il suo amministratore delegato ce lo spiega oggi giustamente su Repubblica intervistato è un signore nato in Turchia con un cognome austriaco quindi non me lo ricordo il suo nome intervistato da Repubblica dice ma andiamo in Olanda perché c'è una legge sulle azioni più comoda se tutti nelle azioni due anni possono avere il doppio dei voti se le tieni cinque anni possono avere cinque volte i voti se le tieni dieci anni un'azione ma le dieci voti rispetto a quello che l'ha appena comprata una sorta di legge che aiuta a mantenere diciamo il il possesso delle azioni e a moltiplicare il voto che è molto utile aziende come Campari scappano non per il fisco ma per le norme di merda e che non riusciamo ad adeguare dice lui bellissima la cosa del metano anzi drammatica regaliamo il metano a Albania e Grecia lo scrive Sandro Iacometti una vecchia storia che voi ricorderete che io sui quali sono fissato non possiamo trivellare e come dice Prodi non porro Prodi non un pericoloso liberista di destra è una cannuccia nell'Adriatico se non la mettiamo noi la mettono dall'altra parte dell'Adriatico e ci fottano il metano e poi ce lo rivendono a caro prezzo libero di oggi perché nel decreto mille proroghi che votano tutti compresi i renziani compresi i romani compresi il capitano ultimo probabilmente beh in quel cazzo di decreto mille proroghi bloccano le trivelle complimenti in campagna battaglia per il presidente straordinario il tempo che oggi titola con il nostro amico Becchis 700.000 euro annui alla casa delle donne guidate da da Maura Cossutta perché i contribuenti romani che stiamo con le pezze al culo e che paghiamo l'IRPEF più alto d'Italia che paghiamo le addizionali più alte d'Italia dobbiamo finanziare la casa delle donne che come unica questione aveva occupato un immobile pubblico e che la Raggi benedetta per una volta voleva scombrare in un paese normale gli immobili pubblici si pagano non si occupano non le occupa casa Pound non le occupa la casa delle donne non le occupano le organizzazioni dei partiti si fa un accorto e si pagano se no li paghiamo noi per loro ma ditemi un po' se questo è il principio base di una convivenza morto infine Bucci uno straordinario attore oggi tutti ricordano la sua battuta me la son magnata in droga coca vodka donne quanto è bello non sapete quanto è bello ubriacarsi insomma un poeta attore maledetto straordinario tutti i giornali lo ricordano per Liga Bue una serie televisiva che evidentemente è piaciuta a tutti io me lo ricordo soltanto per una cosa ve lo dico francamente non solo una perché ha scritto ha fatto migliaia di cose straordinarie io me lo ricordo per quel film sullo straordinario di Alberto Sordi che si chiama il Marchese del Grillo in cui lui faceva lui il prete spretato pieno di donne completamente ubriaco che alla fine viene ucciso sulla ghigliottina dei francesi moralisti e rivoluzionari così mi piace ricordare la morte di Bucci direi che per oggi è tutto spero che non vengano i carabinieri con il mefisto fra due minuti a prendermi ma per il resto io direi che vi do appuntamento domani ciao